Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità a tre eurodeputati catalani, Carles Puigdemont, Clara Ponzati e Toni Comin, accusati in Spagna di sedizione per avere promosso nel 2017 un referendum sull'indipendenza della regione autonoma. La decisione dell'Assemblea di Strasburgo, assunta a scrutinio segreto e che accoglie le conclusioni della Commissione giuridica, inquadra la questione catalana tra gli affari interni della Spagna e getta le basi per un nuovo esame da parte delle autorità belghe delle richieste di estradizione presentate da Madrid. Le conclusioni del Parlamento europeo arrivano nello stesso giorno in cui la giustizia spagnola ha revocato il regime di semilibertà a sette leader politici indipendentisti che erano stati condannati dopo il controverso tentativo di secessione della Catalogna. Puigdemont, Comin e Ponzati hanno commentato la decisione parlando di ostilità politica e annunciando un ricorso in appello davanti alla Corte di Giustizia europea. Con questa decisione, ha detto l'ex presidente catalano, noi abbiamo perso l'immunità parlamentare, ma il Parlamento e la democrazia europei hanno perso molto di più di questo.